Bene, cerchiamo attraverso questa parola che il Signore ci dona di capire quello che il Signore vuole dirci oggi, vuole dire a ciascuno di noi, perché la nostra vita possa essere concretamente, ecco, testimonianza del Signore tra i fratelli e le sorelle. Se guardiamo a volte a quello che ci circonda e anche e soprattutto alla precarietà di tante relazioni, alla sofferenza che oggi scorre lungo le nostre strade, a tante forme di ingiustizia, a tanta recrudescenza anche di razzismo, uno potrebbe dire, ma Dio dov'è? Dio che è buono, Dio che ha creato tutto per il bene, che cosa fa? Guardate, Dio lavora sempre, lavora per il bene dei Suoi figli e il lavoro di Dio è quello di aiutarci a capire che la vita ha una direzione, che la vera realizzazione di questa vita passa attraverso l'unica strada che è l'amore e che se non fondi la tua vita sulla logica dell'amore sei destinata ad essere una persona fallita, si è destinata ad arrivare al capolinea della vita terrena senza aver compreso per chi ha ricevuto questo dono esistere. Ecco, allora che cosa fa il Signore concretamente? Vedete, partiamo dalla prima lettura, sette secoli prima della venuta di Gesù, è un episodio di cronaca. C'è un politico corrotto, questo Sebna ha ricevuto un potere che sta gestendo non per il bene pubblico ma per un tornaconto personale. Quindi è una persona subdola, arrogante, che esercita il potere per se stesso. Cosa fa il Signore? Manda il profeta Isaia e dice, dia a sto tizio che sto agendo per detronizzarlo, per toglierlo via, anzi rotolarlo giù da quel posto che lui non merita. Quindi l'azione di Dio, in fondo, è un'azione costante a distruggere e demolire tutti gli idoli che l'uomo erige. L'idolo più grande è il proprio io, io so Dio, io so un Padre Eterno. E se con questo mio io arrogante assumo un certo potere, ecco allora veramente comprometto tante cose nella storia dell'uomo. Quindi Dio non fa altro nella storia, da un lato, che cercare di distruggere tutti gli idoli, le false ideologie che l'uomo erige per un tornaconto personale. Ed è un lavoro continuo perché cadono e gli uomini ne fanno sorgere altri. Sistemi totalitari, arroganza, tutto ciò che poi porta la vita ad essere un qualcosa di estremamente complicato. E dall'altra parte Dio cerca di farci comprendere che attraverso la strada dell'amore, dell'umiltà, del servizio verso il bene comune, tu puoi realizzare qualcosa di grande, non solo per te ma anche per gli altri. Ma come si fa ad entrare in questa logica di Dio? Come faccio a capire questo modo di agire di Dio? Ecco, ce lo dice il Vangelo. Io ho bisogno della luce e della fede. Gesù sta evangelizzando, ha raccolto attorno a sé questi apostoli e a un certo punto dice ma perché vuole sempre che gli apostoli apprendano lezioni di vera vita? Ma la gente cosa dice di me? Signore, qualcuno dice che tu sei Giovanni, Battista, che hai risuscitato, altri, il grande profetelia, altri, Geremia, eccetera, eccetera. Ma voi, dice Gesù, voi che state con me, voi che state mangiando con me, camminate con me, che mi sentite parlare, che mi vedete operare miracoli. Che cosa dite di me? È la stessa domanda che oggi Gesù fa a me e a te. Io, per te, chi sono? E Pietro dice, no? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù fa capire a Pietro una cosa. Ecco, tu sai comprendere chi sono veramente io, non perché sei intelligente, non perché hai studiato, non perché hai tante capacità umane, ma perché stai cercando di aprire il tuo cuore a Dio e Dio ti illumina. Dio fa di te, così, una nuova creatura. Tu, aprendo il cuore a Dio, dai a Dio il potere di lavorare dentro di te, di purificarti, di elevarti nei pensieri, nei sentimenti, nelle azioni. Perché è Dio la vera pietra angolare della tua vita. E se tu apri questa pietra angolare, la metti alla base della tua storia, Dio può edificare qualcosa di grande, di bello, che si chiama il Regno dei Cieli, la sua presenza dentro di te. Il Santo, chi è? Se non quella persona che si lascia purificare da Dio e emana Dio dai pensieri, dalle parole, dalle azioni. Per questo il Santo attira, perché non porta se stesso, non porta delle idee sue, porta una presenza, che è la presenza del Signore. E allora che cosa dice Gesù, come Dio a Pietro? Bene, Pietro, per la tua fede io edificherò su di te la mia Chiesa, su questa fede, e darò alla mia Chiesa il potere di sciogliere e di legare. E anche se i cristiani saranno persone come tutti gli altri, corrotti a volte, che apriranno anche al male, lo vediamo, la Chiesa è fatta da tutti noi poveri peccatori, perché non crolla la Chiesa? Nonostante gli scandali, anche interni. Perché non si fonda sull'uomo? La Chiesa non potrà mai crollare, sarà sulla terra fino alla fine del mondo, perché si fonda sul potere di Dio, sulla sua presenza. E in questa Chiesa, che è incastonato sulla terra, Dio ha messo questa sorgente che zampilla, che sono i sacramenti, cioè, concretamente, sono le medicine di cui noi abbiamo bisogno per diventare nuove creature, per purificarci, per permettere a Dio di tornare dentro di noi dopo che abbiamo peccato. questo fa il Signore. Allora, come faccio a capire queste cose? Le potrò capire solo se aprirò il mio cuore alla fede, se nutrirò questa fede, se non me la lascerò strappare da tutte le cretinate del mondo. L'uomo è tiranno di se stesso, e questo il demonio lo sa, e soffia sul nostro orgoglio per farci credere del Padre Eterno, ma non siamo niente senza Dio. siamo un pugno di orgoglio, un pugno di fango. Senza Dio non riusciamo neanche a comprendere noi stessi. Senza Dio c'è la depressione cronica, perché io perdo il senso della mia vita. senza Dio, che pace, che amore, che giustizia, che verità, io non riesco neanche a avere una buona relazione con me stesso. Figuratevi con gli altri. Tutte le guerre che sono al di fuori di noi partano sempre da una guerra interna, è la guerra che si scatena dentro di te, che scatena il tuo orgoglio, la tua arroganza, per cui vuoi primeggiare sugli altri. E lo fai come? Con cose materiali, perché non hai altro a cui attaccarti, perché la tua dignità tante volte, nella nostra cecità, la fondiamo sulle cose materiali. Sono qualcuno perché ho un titolo onorifico, perché sono in carriera, perché ho del denaro, perché ho del potere. È tutta pula. Sono tutte cose che davanti a Dio sono come fango. Io non verrò un giorno giudicato davanti a Dio per queste cose. C'è un episodio molto bello che capiterà a Santa Teresa Davila. Un giorno lei mediterà e dirà «Vedi, Signore, se io guardo 1500, un re, da dove lo riconosco che è re? Perché magari è vestito in un certo modo, c'è una corona in testa, c'è un esercito, c'è un potere concreto, c'è da come si presenta. Ma se io vedo quell'uomo che è re, non sapendo che sia tale, un giorno lo vedo nudo, per me è uno come tutti gli altri. Ma se vedo te anche nudo, tue mani regalità. tu fai sentire che sei re. Tu non hai bisogno di corone, di scettri, di eserciti. Sei re dentro. Ecco, questo il Signore vuol fare con noi. Renderci re, come lui, profeti, come lui, testimoni dell'amore, come lui, offrire la vita per amore, come ha fatto lui. e già questo non lo riceviamo nel battesimo. Con l'unzione battesimale, noi diventiamo sacerdoti, re e profeti come Gesù. Dobbiamo farlo funzionare, il battesimo. E i genitori devono aiutare i figli a capire la grandezza che ricevono, la grandezza di grazia nel battesimo. Ma purtroppo siamo così stupidi che ci lasciamo strappare tutta questa ricchezza dalle cretinate del mondo. Capite? Ecco la lezione che oggi il Signore ci dà. Dio è buono, Dio agisce, Dio non si stanca di amare l'uomo, di cercare l'uomo, di perdonare l'uomo. Ma noi non lo capiamo se ci allontaniamo da Lui, non lo vediamo, addirittura pensiamo che Dio sia un nemico. Questa è cecità spirituale. Ecco, la fede ci libera da tutto questo, distrugge tutto questo perché apre il tuo cuore a Dio e permette a Dio ecco di fare di te qualcosa di grande, ecco di illuminarti con la sua verità. E tu capisci il senso della tua vita, tu capisci che hai una dignità che nessuno ti può togliere, che te la dà la tua stessa persona perché sei unico e irripetibile, perché sei figlio di Dio. Ecco, che il Signore ci aiuti a riscoprire questa dignità e soprattutto oggi a chiedere con tutte le nostre forze Signore aumenta la nostra fede perché noi come Pietro possiamo dire Signore tu sei il mio Chirios, il mio Signore, il Dio della mia vita e io ti voglio adorare, ti voglio servire perché sei la mia felicità. Sialo dato Gesù Cristo.